Dalla Barcolana vi presento le principali attività della UISP Vela 2023. La cosa più importante è la festa del sostizio, dove tutte le nostre associazioni, le nostre SD, possono organizzare eventi, possono organizzare manifestazioni, possono organizzare qualsiasi cosa, purché inerente alla vela. L'unico vincolo è che sia fatto nel weekend più prossimo alla festa del sostizio. Quindi nel 2023 sarà 17-18 giugno. È una manifestazione che portiamo avanti già da alcuni anni. Negli anni precedenti eravamo arrivati a 14-15 località in Italia, dove si faceva questa manifestazione. Adesso cerchiamo di rilanciarla e di farla diventare ancora più importante. La nostra idea è quella di farla diventare una manifestazione, una di quelle grandi manifestazioni che fa la UISP a livello nazionale. Seconda cosa che presentiamo è il progetto che è nato l'anno scorso, che si chiama Molliamo gli Ormeggi, ed è rivolto a quegli armatori che sembra che abbiano perso la voglia di uscire in barca. Per fare un esempio, io ho la barca a Caorle, la domenica difficilmente riesci a vedere fuori più di 15-20 barche, 30 se proprio va bene. Però a Caorle ci sono più o meno mille barche nelle darsene. Quindi è un problema che sta toccando comunque tutti i porti italiani e coinvolgerà tutte le nostre associazioni anche qui, senza nessun problema, nessun limite di qualsiasi cosa si può organizzare. L'importante è che venga ripetuto più volte, nel senso che ci siamo accorti che se la fai una volta la manifestazione non ha senso perché la gente non ti vede. Se la ripeti costantemente, un po' alla volta le persone si avvicinano e quindi questa cosa verrà ripetuta periodicamente e speriamo che abbia un grosso successo. Terza cosa importante che faremo quest'anno sarà Wisp nel Vento ed è la ripresentazione del Giro d'Italia che abbiamo fatto negli ultimi due anni. Una parte delle barche partirà dall'Adriatico, un'altra parte dal Tirreno e si incontreranno giù in Sicilia per fare un tratto assieme e poi ogni barca ritornerà ai propri porti. Il quarto progetto che presentiamo, anche questo, lo portiamo avanti da alcuni anni ed è rivolto ai non vedenti. Abbiamo sviluppato in questi anni una notevole esperienza nel campo. Abbiamo specializzato alcuni nostri istruttori e formatori. Quest'anno abbiamo fatto un corso giù a San Miletto del Tronto per vedenti e non vedenti, un corso di primo livello. Altre volte siamo andati in Croazia, siamo andati in crociera da altre parti. È un progetto che sta finalmente prendendo piede, prendendo corpo e vogliamo sicuramente che abbia successo e quindi continueremo per questa strada. Altri due progetti che sono in piedi, che lo stiamo sviluppando, uno riguarda la formazione ed è un giro d'Italia a tappe rivolto però esclusivamente ai nostri istruttori e formatori dove faremo esclusivamente altura. La barca sarà un class 40, lo skipper sarà, l'istruttore sarà Luca Sabiu e con queste tre tappe che sono la Spezia-Palermo, Palermo-Brindisi e Brindisi-Venezia vogliamo inalzare il livello di qualità dei nostri istruttori. È la nostra mania, chiamiamola, però siamo convintissimi che se non alziamo il livello non possiamo ottenere grossi risultati. Altro progetto che è in fase di avvio ma è anche abbastanza avanzata è il progetto sulla sostenibilità. Questo però sarà presentato sabato mattina alle 11 sempre qui negli spazi della Anyway e quindi se volete saperne di più su questo progetto dovete venire sabato. Ciao a tutti e ci vediamo tutti in Barcolana allo stand. Grazie. 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 Grazie a tutti.